Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Furto in un negozio di alimentari in via del fiume a Fano Per gli inquilini che non riescono a pagare l'affitto un fondo della regione Marche di 3 milioni di euro Via delle camminate è diventato un percorso ad ostacoli, protestano i residenti Secondo appuntamento dedicato alle strategie per il turismo a Fano Con l'esperto si è parlato di strutture ricettive Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione sul canale 17 Cioè Occhio alla Notizia E cominciamo dalla cronaca Cronaca che ci riporta ai furti dopo quelli di ieri sera Che vi avevamo raccontato al centro commerciale di Fenile di Fano Questa volta i ladri hanno messo a segno un furto in un negozio di alimentari in via del fiume a Fano Nessuna tregua sul fronte dei furti ai danni di piccoli negozi ed esercizi commerciali di Fano Stanotte ad essere preso di mira in via Fiume 4 il piccolo negozio di alimentari di Marco Tonelli 50 anni di attività di cui 40 passati lì Un pezzo di storia del quartiere Uno di quei posti che appena entri ti fanno fare un tuffo nel passato Quando il rapporto umano, negoziante e cliente era basato sulla fiducia, il dialogo, il consiglio, lo scambio di battute Il pizzicagnolo del quartiere, crocevia di famiglie, abitudini, storie di vita Quei posti in cui quando entravi con la mamma ti davano anche la caramella e il titolare ti chiamava per nome E già sapeva che cosa la massaia doveva metterne la sporta Nulla a che vedere con gli spersonalizzanti, assettici, freddi, ipermercati dove trovi di tutto Niente allarmi, niente sofisticate telecamere, niente fumogeni Solo un infisso in legno e una vetrina come unico baluardo alla tracotanza e alla violenza dei ladri E' stato come affondare la lama del colterro nel burro Ma la vecchia vetrina in legno ha dato il filo da torcere al ladro vendendo cara la pelle Come mostrano le immagini Ma alla fine ha ceduto e attorno alle due di notte i ladri o il ladro hanno profanato quello scrigno del tempo Portando via solo poco più del fondo cassa di appena 50 euro Al suo arrivo Marco Tonelli, a parte il cassetto aperto, però non ha trovato uno spillo fuori posto E nemmeno un formaggino mancante Come se il ladro, resosi conto di dove si trovasse, avesse avuto un sussulto di etica E lasciato immacolato il posto dove si trovava E allora adesso parliamo invece di coloro che non riescono a pagare l'affitto a fine mese C'è un fondo, un fondo europeo che va in aiuto a tutte quelle famiglie in difficoltà Ma per accedere a questi aiuti naturalmente c'è un regolamento da seguire Ammonta a circa 3 milioni di euro il fondo 2017 Destinato agli inquilini marchigiani morosi incolpevoli Persone che non possono più pagare il canone di locazione per la perdita o la riduzione del reddito familiare A seguito di licenziamento, cassa integrazione, cessazione dell'attività o malattia La Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida per richiedere i benefici Complessivamente, tra risorse regionali e nazionali, il fondo dell'anno corrente ha una dotazione di 2,94 milioni di euro L'obiettivo è agevolare il ricorso agli aiuti previsti a favore e l'utilizzo completo delle risorse disponibili Spiega il vice presidente Anna Casini, assessore all'edilizia I nuovi criteri sono stati concordati con le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei piccoli proprietari Le novità riguardano la tempistica dei bandi I criteri di ripartizione tra i comuni interessati, quelli ad alta tensione abitativa La possibilità di compensazione delle risorse inutilizzate, l'entità dei contributi concedili Sostanzialmente è stata superata la modalità di ripartizione preventiva o rigida del fondo I comuni, tra l'altro, incorporavano difficoltà nell'accertamento delle morosità incolpevoli presso i tribunali Ora le risorse vanno erogate in tre sessioni, marzo, giugno e ottobre Con un riepilogo annuale per attuare la compensazione Saranno parametrate non più al numero degli sfratti ma in funzione del numero delle famiglie residenti Quota del 65% e al fabbisogno emerso nell'anno precedente, il 35% All'allocatore verrà garantito un numero di mensilità sui nuovi contratti di locazione a canone concordato L'importo massimo per sanare la morosità non può superare i 12.000 euro I bandi verranno emanati dai comuni interessati La cronaca, ancora i carabinieri di Monte Giorgio hanno arrestato in fragranza di reato a Torre San Patrizio Uno spacciatore marocchino di 41 anni, trovato in possesso di 20 parenti di Ascic per un totale di 2 kg di droga Nascosti nell'auto, l'uomo era stato fermato per un controllo in contrada a Villa Zara Dopo il fermo è stato rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno E ora andiamo invece in via delle Camminate Torniamo vicino a Fano per mostrarvi lo stato in cui versa una strada comunale che è un po' disastrata E allora vediamo il servizio Allora basta, io mi sono stufata perché lui sti giorni la gomma E io l'anno scorso le gomme e io vado a lavorare per sistemare la macchina Strada per Caminate, 4 km di asfalto che dalla Tombaccia si inerpichano fino ai confini con il comune di San Costanzo Il panorama che si gode nel percorso è sicuramente bello Ma nei 4 km che i residenti della zona percorrono più volte al giorno per recarsi al lavoro Non sono certo le bellezze paesagistiche a catturare la loro attenzione Dato che con non poca apprensione sono costretti a tenere gli occhi ben incollati all'asfalto A dare dolori agli abitanti della zona sono le pessime condizioni del manto stradale Che in alcuni punti assomiglia più a un percorso da fuoristrada Tanto è ondulato e rischioso in caso di pioggia Incidenti, cappottamenti e rotture di assi e pneumatici Ammortizzatori che saltano e buche d'ossi Così profondi da costringere i mezzi ad invadere la corsia opposta Pur di evitare il peggio con il rischio naturalmente di possibili collisioni E' questo il poco edificante elenco di imprevisti ai quali vanno incontro spesso gli abitanti e gli utilizzatori di questa strada La situazione, la strada è proprio disastrosa Buche, sconnessione stradale, gomme che si rompono Quindi la situazione è diventata proprio insostenibile A voi in famiglia è capitato già due volte la tua macchina e anche quella della tua mamma Qualche mese fa la macchina sua e la settimana scorsa le gomme della macchina mia Perché bisogna evitare le buche ma non bisogna fare nemmeno gli incidenti Quindi si prende la buca Qua alle vostre spalle c'è proprio una zona molto avallata, molto sconnessa Sì, quella lì è molto pericolosa Perché magari per evitare quell'avallamento si va a finire dall'altra parte Quando si arriva anche a un'altra macchina si rischia l'incidente praticamente La percorriamo tutta assieme a loro Fino al capolinea del bus, limite del confine cittadino con San Costanzo E il su e giù al quale la nostra auto ci costringe Ci convince del fatto che a farla più volte al giorno Oltre a procurare il mal di mare procura anche tanta apprensione Vorreste che qualcuno la mettesse a posto questa strada? Sì, certo Anche l'altro giorno mi sono fermato, ho preso una buca Ha bucato la gomma, mi ha chiesto la via Non ero del posto qui Il presidente della provincia di Pesaro e Urbino Daniele Tagliolini Con il consigliere provinciale Davide Dellonti Che ha la delega all'edilizia scolastica Hanno fatto visita questa mattina all'istituto Santa Marta di Pesaro Dopo l'ultima azione avvenuta nel dicembre scorso Dei lavori all'interno dell'istituto Per il quale la provincia ha speso quasi 2 milioni di euro Per consolidare la struttura, risanare i solai e sistemare i laboratori Guidati dal dirigente scolastico Carlo Nicolini E dalla vice Rita Ortolani I due amministratori hanno visitato anche i laboratori di cucina Di sale e di accoglienze ampliate e rinnovati E anche il nuovo ed esclusivo laboratorio di pasticceria E nella sala verdi del Teatro della Fortuna di Fano Invece questa mattina si è parlato di turismo In particolare di strutture ricettive A Fano non servono lussuosi alberghi a 5 stelle Ma un ammodernamento e aggiornamento delle strutture esistenti Per renderle più aderenti alle aspettative del turista di oggi Parola di Guido Castellini Manager del settore turismo, del settore marketing Ricerca ed analisi di mercato in ambito di strutture ricettive Siamo alla seconda tappa di quel percorso intrapreso dal comune di Fano Per progettare e sviluppare un piano turistico a medio e lungo periodo Basato su consulenze altamente specializzate Per ottimizzare le risorse e la proposta turistica La sala verdi del Teatro della Fortuna Questa mattina ha occolto operatori del settore Amministratori locali e provinciali In questo secondo appuntamento Dove il perno centrale era la dissertazione dell'esperto Che ha inquadrato la proposta affanese nel panorama nazionale ed europeo Questo appuntamento di oggi guarda le strutture e le infrastrutture Che sono fondamentali perché servono a fruire, a dare servizi A rendere più accogliente un territorio E quando parliamo di infrastrutture parliamo di un mondo molto vasto E abbiamo un contributo importante, quello di Guido Castellani Ci stiamo anche avvalendo di risorse e di professionisti in questo mondo Analizzando le strutture ricettive fanesi Le caratteristiche individuate dal manager sono Una proposta frammentata, a gestione familiare ed un'ottima accoglienza Un assetto che rispecchia la proposta alberghiera dell'intera regione Marche Ma quali sono, dal punto di vista degli interventi Le operazioni che devono essere messe in campo da Fano Per la sua proposta a forte impronta culturale per captare le esigenze del turista 2.0 Fano su che cosa dovrebbe puntare a suo avviso? Io trovo che stanno facendo a livello, diciamo parlando dell'intervento dell'assessore Alla cultura del turismo, stanno facendo parecchie azioni Che a mio avviso vanno nella giusta direzione C'è un consorzio di promozione che crea sistema e sinergia nella promozione Quello che si può fare è quello di agire con una ristrutturazione andando l'albergatore in banca Portando un business plan credibile o di riqualificazione Quindi quotando questi interventi che possono essere anche fatti in 2-3 anni Intervenendo sul prodotto e all'interno della struttura, come dicevo Avvalersi di competenze esterne e consulenziali Ma anche assumendo giovani ragazzi che sono nati nell'era digitale Cioè riuscire ad entrare molto di più in contatto con quel mondo digitale Che non è fatto di connessione wifi Tra poco andrà in onda uno speciale dedicato al veglione di San Biagio Di ripalta di Cartoceto Noi ci vediamo domani mattina alle 7.30 con Occhio ai giornali Grazie per aver seguito il nostro telegiornale A voi tutti gli auguri di una buona serata Grazie per aver guardato il nostro canale